Poltronieri, secondo corso, studio numero 12, chiave di mezzo soprano, tempo 3 quarti, velocità di lettura con la semiminima a 75 bpm. Do, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La, Do, Fa, Sol, Do, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. La, Si, Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do, Fa, Mi, Re, Do, Re, Do, Mi, Re, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Re, Mi, Si, La, Sol, La, Si, I, Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, I, Re, Do, Si, Do, Si, La, La, Si, Re, Do, Do, Si, La, So, Fa, Mi, Fa, Re, Do, Si, La, Sol. Do, Mi, Re, Sol, Do, Mi, Fa, Mi, I, Fa, Sol, Do, Si, La, Sol, La, Fa, Sol, Mi, I, Fa, Re, Sol, Do. Grazie.